video ripresa in 4k con oppo reno 2 siamo in negozio facciamo un giretto andiamo giù da basso così vediamo anche un po la stabilizzazione scendendo le scale cercando di non andare a sbattere da qualche parte e anche il cambio di luce in questo momento stiamo scendendo spero di non andare a sbattere scusate c'è un po di disordine ma abbiamo ancora qualche lavoretto in corso però vabbè comunque questa alla fine è la cantina risaliamo sentite che atleta non ho neanche il fiatone ed ora voglio vedere un attimo 1x 2x e 5x passiamo a 2x e andiamo ora a 5x se avete bisogno di finanziamenti siamo qua ok